La nevicata di due weekend fa ha soleticato grandi appetiti verso le montagne della provincia di Pesero Urbino. Lo sanno bene Alcatria dove sabato e domenica scorsa a Frontone centinaia di persone sono confluite anche dalla costa pesarese-fanese per un afflusso che ha fatto partire di slancio la stagione dei rinnovati impianti del Catria. Finalmente la stagione è ripartita dopo due anni di fermo e abbiamo avuto praticamente sold out qui al Monte Catria in quanto le nuove novità, la seggiovia Travarco che ci ha permesso di aprire le sei nuove piste che sono state ammodernate e messe in sicurezza per un totale di 12 km. Chiaramente tutte queste novità hanno richiamato un grande pubblico. Per i bambini avevamo già una grande offerta in quanto il Monte Catria è l'unico monte che possiede un parco tematico a 1400 metri, il Kinderland Adventure Park dove dentro i bambini possono usufruire di una pista da bob, una pista da tubing, cavalcioni, salta-salta e altri giochi. Ora qualche giorno di chiusura degli impianti fino a sabato guardando se il meteo strizzerà l'occhio ad un altro weekend di Esodo verso le cime innevate. Noi abbiamo già ripreparato tutte le piste, oggi come vedete io sono dentro il rifugio perché abbiamo preparato le piste per la prossima nevicata che speriamo che arrivi intorno a giovedì o venerdì. Il fondo è ancora buono quindi basterebbe anche poca neve per poter preparare il prossimo weekend. Tanta gente ha significato però anche altrettante difficoltà nel gestire un grande afflusso che inevitabilmente ha creato code di macchine e code agli impianti. Difficoltà che sono chiaramente legate anche un pochino alle nuove normative anti-covid in quanto oltre che il numero di grandi partecipanti ci si mette anche alla questione del distanziamento quindi questo provoca delle code sia al noleggio sia alla salita della cabinovia e poi alla discesa piuttosto che quando uno entra al rifugio per mangiare e consumare qualcosa. Anche perché le novità che ci sono quest'anno si sono aggiunte a quelle degli anni precedenti. Due anni fa abbiamo inaugurato la nuova seggiovia Triposto e tre anni fa abbiamo inaugurato la cabinovia chiusa che parte da Caprile e arriva fino in cima qui al Monte Catria con la comodità di non doversi arrampicare con la macchina in cima alla montagna praticamente quindi non ci sono problemi di montaggio di catene o che altro. La domenica pomeriggio sul Catria ha anche registrato il fuori programma di un guasto tecnico alla cabinovia durato una ventina di minuti che Oradei spiega così. Abbiamo avuto un fermo di 20 minuti, circa 20 minuti e dovuto al fatto che una scheda e un fusibile si sono bruciati. Chiaramente il tempo non è servito per cambiare i fusibili che si cambiano in pochissimo tempo ma ci è servito per andare a controllare la linea per far ripartire l'impianto in massima sicurezza. Quindi una squadra da valle e una da monte sono partite per andare a vedere in linea visto che era buio se tutto era posto per fare in modo che i visitatori potessero viaggiare in massima sicurezza.